Sì, lo potete vedere alle mie spalle, sono arrivate da ogni parte d'Italia, sono oltre 100.000 le persone attese qui a Piazza della Repubblica dove fra poco sfilerà il corteo per le principali svie della città del centro per arrivare fino a Piazza San Giovanni. Palloncini Fucsia e Matriosche Fucsia, il simbolo del movimento, faranno da cornice all'evento, non una di meno, hanno giunto alla sua terza edizione tutte insieme per dire forte e deciso il loro no alla violenza contro le donne in un momento in cui le cronache ci raccontano troppi episodi di maltrattamenti gravissimi. In Italia nel 2017 sono state oltre 249.000 le persone che si sono rivolte ai centri antiviolenza. da gennaio ad ottobre sono oltre 70 le donne uccise per mano di chi diceva di amarle. Oltre 10 a Roma. Da Piazza della Repubblica è tutto, la linea a voi. Grazie.